Avevano promesso di sfidare i loro uomini e andare alle urne, ma a Moripur, 60 chilometri dalla città di Multan, nel Pakistan centrale, alla fine nessuna donna ha votato. In questa provincia profondamente patriarcale, gli uomini hanno vietato il voto femminile fin dal 1947 e le donne hanno sempre obbedito. Anche questa volta, nonostante le scrutatrici e le presidenti di seggio donne. Erano circa 3.200 iscritte alle liste elettorali. Asia Bibi è vicepresidente di un seggio. Siamo qui da stamattina, dice, e non ha votato nessuna donna. Siamo sorprese, direi sconvolte. Ho 219 donne in lista. Anei Zaharani aveva una lista con 114 donne e un'altra con 299. Nessun voto. Io ho votato, dice Gula Mohamed. Le donne nella nostra zona no, perché hanno paura degli scontri ai seggi. Mentre Mohamed Shamser è più esplicito. Noi siamo qui per votare, ma la nostra tradizione impedisce di votare alle donne. Noi la preserviamo. Le organizzazioni non governative spiegano che l'ordine di non votare è stato diramato alle donne dagli altoparlanti della moschea di Moiripur. Visitare una cabina elettorale sarebbe un disonore. Grazie. Grazie.